Mostro anch'io le mie vene nei video, perché comunque attira un pochettino e dà comunque pubblicità e immagine al mio lavoro da personal trainer, ma non è quello il fulcro su cui si basa la mia pagina o i miei social. Per quello io cerco sempre di portare lo sport a una visione più di umiltà e di conoscenza, rispetto magari a mostrare sempre le solite cose.